Buongiorno, buon mercoledì. Il 4 di gennaio, bentrovati a mattino 6, la nostra rassegna stampa inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dalla lettura del quotidiano Il Centro, il titolo di apertura, allarme meningite, come affrontarla? In regione corsa al vaccino, ma l'assessore Polucci spiega, è una psicosi mediatica. Dunque questa è l'apertura su un tema che sta preoccupando la nostra regione, ma anche il resto d'Italia, con casi che si susseguono un po' in tutta la nostra nazione. Mentre in Abruzzo è migliorato l'anziano ricoverato nell'ospedale di Sulmona, proprio per una meningite. Andiamo avanti nella lettura del giornale. All'interno caos in Veneto, rivolta migranti a Kona, operatori presi in ostaggio. Poi politica, grillo contro giornali e tv dicono balle. A Montesilvano, hacker islamici bloccano il sito del comune. A centro pagina, invece, un concerto tributo domani a Roseto, Tony Esposito, io l'Abruzzo e Pino Daniele. Pino era un napoletano particolare, molto dolce, ma anche molto brusco. A volte, pochi giorni prima di morire, fece una cosa che porto con me, per la prima volta in 40 anni, mi disse sai Tony, ti voglio bene. Così il musicista ricorda l'amico scomparso alla vigilia dello spettacolo in sua memoria. Nelle cronache di Spallo, ospedale civile e a Pescara, reparti strapieni per l'influenza. Famiglie decimate dalla febbre che ha avuto in queste festività il picco più alto, ma gli esperti tornano a insistere, vaccinarsi è ancora importante perché sono attesi nuovi ceppi del virus. Sempre da Pescara, asili e musei, il comune perde 5 milioni all'anno. A Montesilvano, invece, troppo poveri, ora serve un'altra mensa. Troppi poveri. Nel taglio basso, la trazione di Pescara alla ruota gira fino a settembre, prorogato il permesso, ma la ditta ha chiesto altri due anni. La geostra panoramica resterà in città almeno fino alla fine di settembre. L'amministrazione ha deciso di prorogare l'autorizzazione per il successo registrato tra cittadini e turisti, ma la società proprietaria dell'impianto aveva richiesto il permesso per rimanere addirittura fino al 6 gennaio del 2019. E ancora a Pescara la marineria fa festa con 100 terremotati. Andiamo nel taglio alto dove sciare. Neve in Abruzzo, riaprono le piste, torna la polemica. Riaprono le piste anche grazie all'ondata di maltempo e di neve che sta investendo la nostra regione. Ancora Acqua Santa Croce, aperte le buste, ora l'Acqua Santa Croce fa gola anche agli arabi. Andiamo ancora avanti con la lettura delle prime pagine del quotidiano Il Centro. Anche sulle altre prime pagine provinciali, questa è quella di Chieti Lanciano Vasto, ritroviamo il medesimo titolo di apertura e le principali notizie, mentre nelle cronache a Vasto, auto e negozi nel mirino dei Piromani, a San Salvo incendiato un esercizio di abbigliamento sportivo, a Castiglione Messer Marino invece date alle fiamme l'auto di un imprenditore, indagano i carabinieri. A Chieti ladri in piscina, secondo colpo in due settimane, a Lanciano SOS Cinghiali slitta ancora la commissione. Nel taglio basso Chieti piove dentro le case popolari, via Saline, il catrame sui tetti non è servito a risolvere il problema. I residenti protestano con l'Ater, mentre il sindaco Umberto Di Primio promette interventi, ma in un caso analogo segnalato dal centro appena qualche giorno fa in via Sallustio, lo stesso intervento era stato escluso perché le abitazioni non sono di proprietà del comune, quindi la manutenzione non compete all'ente. E ancora per lo sport, basket di A2, la fortitudo detta legge, la proger sinchina. Andiamo avanti, questa è la prima dell'edizione di Teramo. Nelle cronache, i danni dal sisma, gli sgombrati, non lasciamo le nostre case. Alcuni degli inquilini dell'ATR, credo che sia dell'Ater, non intendono osservare l'ordinanza che impone di abbandonare gli appartamenti, il sindaco li capisco, ma devono andarsene. Droga per la costa, trovati 8 chili di marijuana, 3 arresti, ancora al Badriatica, ufficio turismo a rischio di chiusura. Mentre nel taglio basso c'è l'Università di Teramo in primo piano, soddisfatto il rettore, Ateneo bene, didattica e ricerca. L'Università Teramana si piazza al 33esimo posto in Italia, secondo la classifica del sole 24 ore che conteneva un refuso, scrive il centro. Teramo non ha perso sei posizioni rispetto all'anno scorso, ma soltanto una. Lo ha precisato Luciano D'Amico, illustrando i buoni risultati raggiunti dalla sede cittadina. Nel 2017 dovremo migliorare per quanto riguarda gli stage e l'occupazione. E poi Asle Teramo, ospedale Palmieri, lascia la direzione e va in pensione. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila Vezzano sul Mona. Di spalla, nelle cronache, domani all'Aquila, centro blindato per la fiera della Befana. Varchi presidiati, artificieri in allerta, stazioni mobili della polizia nei punti strategici dove l'affluenza è massima. Si vogliono evitare rischi. A Celano muore Morgante, ex sindaco e dirigente del CAM. A Sul Mona si rompe il treno, viaggiatori fermi tra i campi. Nel taglio basso, nonna chef al talent dei Fornelli, su Sky con altre 12 concorrenti di Sul Mona. A 72 anni porto gli spaghetti alla chitarra. Si tratta di Maria Luigia Dorazio, già miss nonna simpatia 2014, che parteciperà a un nuovo format televisivo sul modello di Masterchef. Poi all'Aquila, Gino, Liutaio ed altri tempi. Tengo vivo un mestiere, aggiungiamo noi, molto antico e nobile. Andiamo avanti, cambiamo testata. Passiamo al messaggero, andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo. Nevica e finalmente si scia, il titolo di apertura. Alla fine delle vacanze di Natale si imbiancano tutte le località turistiche d'Abruzzo. Impianti in funzione a Roccaraso, alla Maielletta, da Ovindoli a Magnolia, a Campo Felice. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo. Alla fine delle vacanze di Natale, con gli incassi di alberghi e stazioni sciistiche ormai compromessi, ma finalmente la neve è arrivata sulle montagne d'Abruzzo. Cade da ieri e, stando alle previsioni meteo, le precipitazioni proseguiranno fino a venerdì. Una preziosa condizione che permetterà di unire all'innevamento programmato, quello naturale, rendendo sciabili gran parte delle piste. La stazione di Ovindoli, dove sono caduti circa 30 cm di neve contro una superficie sciabile prossima a 80 ettari e in funzione già dal mese di dicembre, così come la vicina Campo Felice. Nel comprensorio a Remogna, Roccaraso, con oltre 110 km di piste da discesa, sono caduti dai 30 ai 60 cm di neve, ma sono in azione anche i cannoni. A Campo Felice, 6 impianti e 7 piste per circa 20 cm di neve, meno 3 e neve dai 5 ai 20 cm anche a Campo Imperatore, dove risulta aperta solo la funivia. Nevischio gelato all'Aquila, mentre si stanno imbiancando tutte le cime interne fino alla valle del Sagittario. Speriamo per gli operatori turistici invernali che continui a nevicare in montagna, così da consentire l'afflusso dei turisti. Le previsioni oggi tocca la costa e Pescara si prepara per l'emergenza. Le previsioni meteo segnalano per oggi e domani alto rischio di nevicate anche a Pescara e nel resto della costa. Attivato il dispositivo di emergenza che sotto il coordinamento della Prefettura coinvolte Comuni Protezioni Civile, ANAS e Società di Gestione delle Autostrade a 14 a 25. Il Comune di Pescara ha già mobilitato le nuove ditte private convenzionate per lo spazzamento della neve e lo spargimento di sale sulle strade. Più le quattro incaricate della cura del verde per far fronte ad eventuali crolli di alberi. La città è stata divisa in nove distretti affidati alle varie squadre di pronto intervento. Più tardi, vi ricordo, alla fine della prima parte di mattino 6, andremo a vedere insieme le previsioni del tempo con Meteo 6, i nostri meteorologi. Poi andiamo a centropagina, strisce pedonali visibili, raffica di investimenti. A Pescara è allarme per la condizione delle strade, il Comune i soldi non bastano. E poi a centropagina, ma che belle le mamme in calendario, Pescara hanno posato per aiutare la scuola dei figli. I 12 scatti per 12 mesi dell'anno, aperti dalla maestra Cristina, che insieme alle madri dei bambini della scuola di San Silvestro, ha posato per un attesissimo calendario. Nel taglio basso, Chieti, le ex scuole nel degrado. Sono diventati loro malgrado l'emblema dell'abbandono più totale che stride con la realtà che li circonda. L'ex scuola media Chiarini, nel cuore della villa comunale di Chieti, le ormai ex scuole Nolli, a pochi metri dalla prefettura, sono nel degrado più assoluto. Di spalla, sexy avvocato all'isola dei famosi con cicciolina, VIP emergente, Luca Di Carlo nel cast della nuova edizione dello show. E poi nel taglio alto, all'Aquila rinasce, Ponte Belvedere, il progetto che divide la città, dibattito in rete, e poi l'appuntamento tradizionale dell'Epifania, la fiera dell'Aquila torna in Piazza Duomo. Per lo sport, Pescara la carica di Stendardo, la mia grinta per la salvezza. Dopo l'ok di Bovo, i biancazzurri completano la difesa e adesso lanciano l'assalto a Gilardino. A pochi giorni il ritorno di Mandragola. Ora andiamo a vedere la prima della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Sospetto jihadista a Castronio, allerta radicalizzazione tra le mura del carcere, detenuto tunisino individuato e trasferito da Teramo. Dunque, questa è una notizia molto preoccupante per quanto riguarda la sicurezza interna del nostro paese. Allerta radicalizzazione anche tra le mura del carcere teramano di Castronio dopo l'attentato di Berlino e la ricostruzione investigativa del percorso carcerario dell'attentatore tunisino Anisambri. Il fenomeno dell'indottrinamento nei penitenziari italiani, già noto alle forze dell'ordine, è divenuto di dominio pubblico in tutta Italia. All'inizio dell'anno il Ministero dell'Interno ha diffuso un report del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nel quale sono inclusi 373 detenuti a rischio radicalizzazione islamista. E poi a centropagina la fotonotizia. Da domani ogni famiglia teramana spenderà in media 330 euro. I salti mortali, questo è il gioco di parole con i saldi, con la D di Domodossola, che partiranno da domani. E poi la crisi fa scappare anche gli stranieri. Nel Teramano sono appena 17 in più dell'anno precedente. Questo secondo un report è uno studio effettuato dal ricercatore Aldoronci, che è stato diffuso nella giornata di ieri. Di spalla Giulianova, arrestati con 3 kg d'erbe e 2 pistole. Poi a Martinsicuro, centrodestra unito al voto, ultima chiamata. Nel taglio basso l'allerta meteo. In arrivo freddo e neve, con una befana che si prevede molto, molto fredda. Nel taglio alto, il rettore analizza i dati del Sole 24 Ore. Se l'Ateneo perde punti è anche colpa della città. Il campus Sant'Agostino, la mensa Azzu, apre i poveri e i detenuti. E poi lottizzazione Atena, iniziati i lavori al quartiere dell'università. E poi per lo sport, il punto sul Teramo di Federico De Carolis. Il Campitelli lottatore. E si è appena aperto il mercato. Vedremo che cosa combinerà la società Teramo Calcio. E poi basket. Domani sera sarà derby d'alto livello in Serie B tra Campli e Giulianova. Adesso apriamo la pagina del nazionale, andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Migranti, accordo per i rimpatri, piano antirivolte, miniti a Tunisi. Nuove regole sulla accoglienza. E tra l'altro, andando adesso avanti sul sito della Repubblica, vedete questa fotonotizia migranti, la rivolta dei governatori. Sono l'inferno, no al ritorno dei CIE. Caos a Cona dopo la morte di una ivoriana. Centro sotto accusa. Vediamo anche, dovremmo riuscire a visualizzarlo, un video proprio della rivolta nel centro migranti di Cona, diffuso sul sito di repubblica.it. Vediamo se riusciamo a visualizzarlo. Chiedo alla regia di metterlo in onda. Eccolo qui il video postato da repubblica.it che proprio attiene alla rivolta nel centro migranti, rivolta insomma che ha causato diversi problemi, migranti che protestano per le condizioni di vita all'interno del centro di accoglienza. Ovviamente una rivolta che sta suscitando polemiche per quanto riguarda ovviamente la politica interna. Dunque questo il video di repubblica.it. Possiamo tornare invece sul giornale per andare a vedere le altre notizie Grillo. Tribunali per giornali e tv, il PD, toni fascisti. Dobbiamo punire le loro bugie e codice etico, sì, dei militanti del 5 Stelle. Poi la storia se l'America si inchina al nuovo protezionismo di Trump. La Ford cede al diktat del neopresidente e non apre in Messico. Andiamo sulla stampa. I sindaci attaccano sugli immigrati, il governo sbaglia. Dopo i violenti scontri di Venezia, non riaprire i centri più espulsioni. Il nodo della distribuzione dei profughi che resta sempre un tema molto caldo. E poi l'intervista all'ex ministro degli interni Alfano, ora agli esteri, intese sui rimpatri. Stiamo lavorando ad accordi con Niger, Libia e Tunisia per ridurre gli arrivi di migranti. Ancora nella fotonotizia centropagina, la metro unifica Manhattan, un secolo di tentativi. Ora la linea Q di New York raggiunge l'Upper East Side. A centropagina 5 Stelle, voto bulgaro per il codice Grillo, il leader giuria popolare per giudicare i giornali e le TV. E ancora bocciato il piano news della Rai. Verdelli lascia via le Mazzini, dopo mesi di frizioni non resto senza fiducia. Andiamo sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico italiano apre con le regole per le banche. Basilea 4, slittano le regole sul capitale delle banche. Draghi, il presidente della BCE, continueremo a lavorare per finanziare le riforme. Manca l'accordo tra Stati Uniti e l'Unione Europea, rinviato l'incontro. Titoli bancari in crescita, tempi più lunghi per gli aumenti di capitale. L'euro scivola sotto 1,04 dollari, inflazione all'1,7 in Germania. La valuta unica tocca il minimo dal 2002 e poi recupera borse stabili. Questo per quanto riguarda l'andamento delle borse. Poi nel focus sul taglio alto, la Ford taglia l'investimento in Messico da 1,6 miliardi di dollari. Questo è il primo effetto delle politiche protezioniste del neopresidente eletto Donald Trump. Tra l'altro la moneta messicana ha fatto un tonfo nelle quotazioni. Andiamo avanti sulla lettura dei giornali. Passiamo adesso al fatto quotidiano. Bollette e caselli, cittadini rapinati per ingrassare le lobby dei partiti. La stangata aumentano energia e pedaggi. Dunque il fatto in apertura ritorna sugli aumenti di inizio anno. E poi per la televisione, bocciato il piano, via Verdelli, esplode la RAI Renziana, trema Campodallorto, grillo contro stampa e TV. A centro pagina, ricordate lo scandalo Petroli, l'indagine è arenata a Roma. L'anno giudiziario che fino hanno fatto le inchieste del 2016 su politiche d'intorni. Questo è quello che si chiede il giornale. Andiamo adesso invece sul messaggero per vedere anche la prima pagina del quotidiano romano. Migranti, il piano antirivolta dopo i disordini in Emilia e in Veneto. Aspettiamo il refresh del sistema e torniamo dunque sulla prima pagina nazionale. Andiamo a vedere, eccola qui, la possiamo visualizzare. Dopo i disordini in Emilia e Veneto, al via Trasferimenti, pressing del Viminale su prefetti e comuni, centri di accollenza più piccoli, pattuglie contro i clandestini, Minniti, il ministro degli interni, in Tunisia, rimpatri veloci. Questo per quanto riguarda quanto sta accadendo intorno al tema dei migranti. Codice Grillo, voti web dimezzati, tribunali del popolo per i media, il 91% di sì alla nuova linea, ma metà clic rispetto al vecchio statuto. Attacco a giornali e tv, il bavaglio di Beppe, una caricatura di tragiche purghe e poi atti depositati nell'inchiesta Marra. Entra la chat con Ranji e Frongia per quanto riguarda invece i temi romani. Il terrorista di certo arrestato in Siria, cambiando argomento e andando alla strage in Turchia. Istanbul, killer imprendibile, per ora presi solo i complici. Andiamo adesso avanti con la lettura dei giornali nazionali. Andiamo sulla prima pagina di Libero. Dopo la morte di una donna incinta, profughi in rivolta sequestrano i guardiani e nessuno li punisce. A Venezia gli ospiti di un centro accoglienza imprigionano 25 italiani accusati di non avere soccorso la ragazza. Sono ancora a piede libero. Questo è accaduto, come detto, dopo la morte di una donna incinta. E poi a centropagina la foto di Di Canio, la giravolta di Di Canio, meglio fascista che ipocrita. Ricorderete la polemica per Di Canio che è stato cacciato da Sky per aver mostrato un tatuaggio con scritte inneggianti il fascismo. Il giornale. In invasione senza fine, sequestrati dai profughi, gli italiani sono al limite. Scoppia la guerriglia degli immigrati in Veneto, ma da nord a sud tutto il paese è una polveriera. Stragi di Istanbul, una pista arriva a Modena. Andiamo sul tempo. Scusa Grillo e le vostre bufale. Beppe vuole giudici popolari per le bugie dei media, ma nulla dice sulle infinite patacche a 5 stelle. Dalle scie chimiche, i pomodori antigelo, i microchips sottopelle, le sirene, gli alieni, i frigoriferi, i complotti di Bildenberg e della ruota della fortuna, l'AIDS che non esiste, l'allunaggio mai fatto e altre cose. Insomma, questa è la polemica sollevata dal tempo. E ancora le immagini sciocche nei locali di Istanbul, dove l'ISIS ha ucciso 39 persone. Ecco le foto dell'orrore. Il manifesto La Nostra Africa, il titolo sulla fotografia, accona la rivolta di migranti dopo la morte di una giovane ivoriana per la procura e deceduta per cause naturali. Nel mirino la cooperativa che gestisce il centro di accoglienza, già indagata per truffe e maltrattamenti. Ci sono 180 mila rifugiati in Italia, quasi tutti africani, via al piano dell'Eviminale per distribuirli tra i comuni. Vedete come cambiano le posizioni a seconda dell'orientamento politico dei vari giornali. Qui ovviamente siamo nel campo del centro-sinistra. Primo abbiamo visto invece quotidiani che fanno riferimento al centro-destra. Turchia strage senza nome, Erdogan è in crisi per quanto riguarda la politica estera. L'unità migranti, la bufola dell'invasione. La destra invoca espulsioni di massa, ma il danno è stato introdurre il reato di clandestinità. Se i 180 mila arrivi fossero divisi fra i comuni italiani, ogni città ospiterebbe 20 persone. Questa è la posizione del quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. E poi a centro-pagina inchiesta a Rosarno. Chi li vuole senza diritti e tutele? Nel taglio basso, altro che garantista, Grillo adesso vuole il bavaglio per giornali e tv. Tornando appunto sulla polemica con il Movimento 5 Stelle. Il mattino di Napoli, l'affare dei centri profughi, questo è il focus, proteste in Veneto per la morte di Univoriana, pronto il piano antirivolto, un miliardo all'anno per 3.000 strutture private, tra gare a ribasso e fatture facili. E' chiaro che c'è anche purtroppo della speculazione nell'accoglienza ai migranti. E poi Champions, reali in rete, prezzi foglie, rischio truffe, scatte il bagarinaggio online, in vendita a curve a 300 euro e distinti a 900, via le denunce per la prossima partita del Napoli con il Real Madrid in Champions League. Andiamo sul secolo XIX, migranti, tensione e proteste, intervista ad Alfano, sui rimpatri siamo vicini agli accordi con tre paesi, gli scontri a Venezia dopo la morte di una profuga in un centro, i sindaci no ai centri di prima accoglienza. E poi Fincantieri, sì, all'acquisto di STX France, Seul accetta l'offerta e il Polo Europeo si può fare, questa è una notizia che riguarda le imprese. E poi la RAI, piano news bocciato, Verdelli sbatte la porta, dimissioni dopo mesi di attriti, non c'è la fiducia, stop del CDA al progetto per l'informazione. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, adesso, giornali e TV, la legge del Grillo, giuria popolare contro le balle, le notizie vanno verificate dai cittadini, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, un linciaggio mediatico. Mentana, il direttore del Tg della Sette, ora lui si cerchi un avvocato pronto, il direttore a denunciarlo per diffamazione. Poi i consorsi di bonifica, Emiliano, tasta la maggioranza per quanto riguarda la riforma nella regione Puglia. Tornando invece agli esteri, scarcerato il 28enne Chirghiso, solo una somiglianza nell'ondata di arresti in Turchia, il killer non c'è, presi solo dei fiancheggiatori. Adesso andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali, andiamo sulla Gazzetta dello Sport per in prima battuta. Tutti contro tutti, Bernardeschi tira aria di derby di Milano, Verratti apre e la Juve sfida l'Inter. Mercato, gli interighi per avere a Giugno e Bebi d'Italia, mosse anche su Berardi e Pellegrini, e tra i bianconeri e Luis Gustavo. Poi Prandelli si sfoga, io tradito, ma voglio ripartire, in Spagna ci invidiano il Napoli. Dalle dimissioni di Valencia, la visione del calcio senza segreti, questa è l'intervista all'ex commissario tecnico della Nazionale. Andiamo avanti sul Corriere dello Sport, Milan e Fiorentina in prima fila, caccia a Zazza. L'attaccante liberato dal West Ham è uno dei grandi obiettivi di questo mercato, piace a Montella e Sosa, ma non sono escluse sorprese. Nel taglio alto un Napoli da dieci, De Laurentiis nel futuro, costruito una squadra che vuole restare ai vertici per dieci anni, incasso record per il Real, oltre 5 milioni per la partita di Champions. Le notizie di mercato, Rodriguez nuova pista per l'Inter, poi la Roma va a Badegi, su Badegi via Paredes, e poi ancora Cafu Lazio c'è il Lione da battere. Per quanto riguarda la Juve, Marotta si, Morata ama tanto la Juve, stretta su Luis Gustavo, per la prossima stagione spunta l'ipotesi Verratti. Andiamo su Tutto Sport, la Juve chiama, Verratti risponde, Marotta annuncia a luglio un botto a centrocampo, la gente dell'Azzurro conferma che non resterà al Paris Saint-Germain. Poi per il Torino, ecco i Turbe e subito grande festa. A Ben-Nur l'obiettivo per la difesa invece. Ancora dopo Gagliardini, Inter svolta a sinistra, Rodriguez nel mirino, e poi cessione in vista, soldi cinesi per bacca e il Milan fa i conti. C'è anche una notizia che riguarda la Formula 1, la Ferrari blocca Mercedes e Red Bull con una lettera alla FIA stoppa le sospensioni idrauliche sviluppate dalle due squadre rivali. Questo per quanto riguarda i quotidiani sportivi italiani. Era anche il termine della prima parte della nostra rassegna. Adesso ci fermiamo per andare a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo dopo un break pubblicitario con la seconda parte della nostra rassegna stampa in cui approfondiremo le notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo, come annunciato, alle notizie dalla nostra regione. Torniamo dunque sulle pagine dei quotidiani abruzzesi. Ripartiamo dal quotidiano Il Centro. Allarme meningite, code in Abruzzo per i vaccini, Paolucci dice è psicosi mediatica. L'assessore alla sanità rassicura tra il 2015 e il 2016 solo 7 i casi. Intanto la regione pensa di anticipare il piano nazionale di prevenzione. In via di approvazione per il 2017-2019 l'introduzione dell'offerta gratuita della vaccinazione contro il meningococco B ai nuovi nati a partire dal 1 gennaio 2017 con ciclo a 4 dosi, 3 nel primo anno, una dose di richiamo il secondo anno. L'introduzione dell'offerta gratuita del vaccino ai soggetti di qualunque età affetti da determinate patologie che li rendono più vulnerabili. L'introduzione della vaccinazione anti-meningococco ACW e Y una dose negli adolescenti fra 11 e 18 anni che va a sostituire la vaccinazione anti-meningococco C. Dunque queste le nuove regole allo studio. Assalto intanto alle ALS, gli ambulatori di Contrada Casalina a Teramo raggiunti in due giorni da più di 200 cittadini in ansia per la malattia. Due sono le persone ricoverate a Sulmona, resta grave un'84enne, al Mazzini è arrivata da Roma, una 38enne, nessuno dei due ha forme contagiose. In Italia sono 196 i casi registrati nel 2015, questo per quanto riguarda il report. E poi nel taglio basso è giusto prevenire ma niente panico, parola all'esperto, il primario di malattie infettive all'Aquila e il caso di Sulmona non può essere trasmesso. Il reportage invece da Pescara, 100 persone in fila per avere la dose, ma 80 euro sono tanti. Famiglie accalcate per ore, medici costretti a saltare le ferie per soddisfare le richieste lievitate in pochi giorni. Allora andiamo a vedere il consiglio e le spiegazioni degli esperti in questo servizio realizzato da Francesca Romana Testi. Vaccini sì, vaccini no. Se fino allo scorso anno l'appello della sanità pubblica era quello a non rifiutare i protocolli di prevenzione, vedi anti-influenzale o il caso dei genitori contrari a vaccinare i propri figli, dopo i casi di meningite che si sono verificati in Toscana e nel Lazio, che hanno causato diversi decessi, ora scoppia la psicosi e le ASL di tutte le province d'Abruzzo si sono popolate di cittadini in fila per la vaccinazione. A Pescara il Dipartimento di Prevenzione mette in moto la macchina pubblica per incrementare il numero di sedute a disposizione dei cittadini. Avendo avuto una richiesta straordinaria, che è difficile fronteggiare, ci stiamo attrezzando e quindi pensiamo già la settimana prossima di incrementare il numero delle sedute per far fronte a questa richiesta che è davvero esorbitante rispetto a quelle che sono le nostre ordinarie possibilità. Quindi ci sono già due sedute stabilite per l'11 e 18 di questo mese. E poi pensiamo però già la settimana prossima di mettere su una serie di ambulatori al pomeriggio proprio per questa particolare affluenza. L'invito della sanità pubblica è quello di vaccinarsi non per l'onda emotiva causata dalla cronaca, ma per la consapevolezza che la prevenzione è una responsabilità collettiva da perseguire sempre, non solo di fronte a casi eclatanti. Sul sito dell'ASL di Pescara sono a disposizione tutte le indicazioni sui vaccini da effettuare e le prenotazioni disponibili con le sedute straordinarie in programma per i prossimi giorni. La meningite, oltre che essere una grave malattia, ma è anche una malattia che purtroppo è sostenuta da vari tipi di ceppi che possono essere implicati. Alcuni sono quelli più semplici che i bambini ricevono già per calendario vaccinale, come può essere la vaccinazione antipneumococcica, il famoso Prevener, che loro ricevono fin dall'infanzia. Poi ci sono altri tipi, come quello della meningite, che vedete sul sito, che è quello del famoso meningococco C purulento. Qual è il problema? Che per calendario vaccinale viene fornito solo un ceppo che è il meningocci. Ma in realtà, siccome nel frattempo l'evidenza scientifica ha messo in evidenza l'alto valore del vaccino tetravalente, che contiene sì il vaccino, ma contiene anche altri tre ceppi, e quindi è giusto che nella misura in cui ci si vaccina, è bene vaccinarsi con una copertura maggiore, perché invece di avere un solo ceppo abbiamo quattro ceppi. Anche perché proprio il fatto che ormai c'è questa popolazione che cammina, quindi si arriva dai paesi esotici, si arriva in Italia, in Italia, viceversa, quei tipi di ceppi che sembravano soltanto di certe zone, possono chiaramente essere portati anche in Italia. Ecco perché avere una copertura maggiore è migliore e più efficace. Adesso cambiamo argomento, passiamo sulla pagina Bruzzo del Messaggero. Finalmente la neve parte la stagione nelle località scistiche abruzzesi, stando alle previsioni meteo le precipitazioni nevose proseguiranno almeno fino all'epifania. Sospiro di sollievo per gli impianti e i tanti amanti dello sci. Cannoni sul Gran Sasso utili e poco costosi. Il direttore degli impianti c'è già un bacino naturale per la raccolta dell'acqua, che serve appunto alla neve artificiale. Poi nel taglio basso Papa Francesco e la comunicazione, questo il convegno che si terrà il 21 di gennaio alla Camera di Commercio di Chieti. Ancora gli stranieri residenti in Abruzzo aumentati di appena 118 unità in un anno. Questo il report del ricercatore Aldo Ronci. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, le altre notizie dalla pagina Abruzzo. Abruzzo, Santa Croce, l'acqua fa gola agli arabi, aperte in regione le buste con le offerte, anche un gruppo del Bahrain fra gli interessati alla nuova concessione. E poi le grandi manovre. Wind 3 lancia la sfida al mercato, alla guida del primo colosso telefonico italiano, il sulmonese Maximo Ibarra. Nel taglio basso Montesilvano ha chiarato il sito del comune, nell'home page, un messaggio di Anonymous Arab, morte a Israele, Palestina libera. Andiamo sulla pagina di Pescara, il boom dell'influenza, e dunque torniamo al tema della sanità, reparti sovraffollati e polmoniti in aumento in pediatria, piccoli consulenze e ricoveri, personale richiamato dalle ferie, il primario degli infettivi, in arrivo altri ceppi, vaccinarsi è importante. È un virus dal contagio velocissimo, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i virus che portano l'influenza di questo inverno contengono delle piccole mutazioni che ne velocizzano il contagio. Due antivirali per salvarsi entro 6-12 ore, la prevenzione importante è quello che ribadiscono i medici. Per quanto riguarda ancora la sanità in pronto soccorso, l'afflusso dei pazienti è salito del 30% attese fino a 12 ore all'ospedale di Pescara, gli infermieri sono in allarme, troppe le carenze di organico, Irene Rosini, presidente di Pasvi, che rappresenta circa 2.200 iscritti in provincia, assistenza non all'altezza degli standard richiesti, coinvolgeteci nelle decisioni. E poi la Casa Aila, la sua sala convegni, in via Regopiano, 50 posti per ospitare eventi, manca solo il via libera del Comune. Andiamo avanti, musei e campi sportivi, il Comune perde 5 milioni all'anno e dunque cambiamo argomento, la gestione dei servizi continua a essere in profondo rosso, pesano anche asili e mense. Diodati, l'assessore dice, niente aumenti per il momento. Andiamo ancora avanti, la ruota panoramica girerà fino al 30 di settembre, è prorogata l'autorizzazione di 9 mesi, ma la società vuole restare fino al 2019. Il responsabile dice, è un successo, gli utenti arrivano anche da fuori regione. Poi l'allertamento, l'abbiamo visto, protezione civile pronta ad intervenire in caso di neve e ghiaccio nella città di Pescara. L'addio all'ex preside Barberini, aveva diretto il Da Vinci, il classico era stato docente di Emilio Alessandrini, il papà dell'attuale sindaco di Pescara. Poi gli studenti chiedono più servizi, azione universitaria consegna mille firme al primo cittadino. Nel Taglio Basso il Rotary Club Pescara riscopre le tradizioni abruzzesi con una serata organizzata dall'Associazione Fontevecchia. Ancora la Befana per Arquata, la marineria fa festa con 100 terremotati, incontro stamani in comune, poi il pranzo all'Ido Oriente, gli spettacoli per i bambini, i cori gospel e le luci d'artista. Andiamo ancora avanti, nell'area metropolitana Francavilla ricorda Jennifer e dice no alla violenza domani alle 18, al Valle Anzuca manifestazione con 100 pattinatori, il fratello della ragazza uccisa un mese fa curerà la musica, l'ingresso è gratuito. A San Giovanni Tiatino, via Roma partiti i lavori per finire i marciapiedi, poi a Montesilvano aiuti per gli ultimi, il piano del sindaco, sempre più poveri in città, ora serve un'altra mensa, Comune Caritas a caccia di locali per aprire un negozio della solidarietà, il sindaco Maragno dice sono pronti 95 mila euro, così garantiremo assistenza anche ai profughi. E poi il vecchio carrozione stangata per il Palacongressi, 150 mila euro per la liquidazione, l'amministrazione costretta a versare i fondi per chiudere i conti della partecipata di Stefano, si trasformi la sala da mille posti in un grande teatro. Nel taglio basso la cronaca, travolto in strada, grave un 47enne città Sant'Angelo, cinese investito in Viale Matrino mentre va a gettare i rifiuti. La pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara, il maltempo minaccia, le strade già franate, Penne e le precipitazioni attese da domani mettono a rischio isolamento le decine di famiglie ancora alle prese con i danni lasciati dalle piogge del 2015 e la neve in arrivo a Penne, c'è un numero di emergenze, è stato predisposto anche il piano neve. E poi Popoli tutto pronto per la nuova TAC, il macchinario era atteso da anni in ospedale, lunedì inizierà la fase di collaudo. Andiamo adesso a vedere anche le notizie dalle altre province. Andiamo adesso sul messaggero per vedere appunto la pagina dell'Aquila. Epifania, un tuffo nelle origini, la fiera torna in Piazza Duomo dopo tanti anni, gli ambulanti di nuovo nel luogo dove fu allestita la prima edizione. Previste sanzioni per gli esercenti che non faranno la raccolta differenziata. E poi malore in cella e poi la morte giallo sulla sorte di un super boss rinchiuso nelle carcere di Preturo. Il lavoro, centri dell'impiego e ricostruzione, il nodo dei precari. Nel taglio basso, Colle Pietro, trentenne morto a causa di un guasto, l'automobile su cui viaggiava non ha risposto ai comandi, il giovane si è buttato fuori dall'abitacolo. Andiamo sempre sulla pagina dell'Aquila. A Belvedere, il ponte che divide la città, persi otto anni, il futuristico progetto Unirest accende il confronto in rete tra chi vuole un cambiamento netto e chi lamenta lungaggini. Cialente porterà l'idea all'attenzione della maggioranza, Capri la difende e combatte la carenza di parcheggi per auto. Nel taglio basso, il sisma fa riscoprire i dialetti, lo studio di una docente che mette in luce il fenomeno nell'ambito della manifestazione Pianeta Maldicenza. Su internet sono nati molti gruppi che valorizzano il senso di appartenenza. Poi lutto è morto il padre del giudice Gargarella. E ancora il Paganica Rugby accoglie i migranti. La pagina di Avezzano sul Mona, Nova Salus, licenziamenti scongiurati. L'importante casa di cura salvate in extremis da un impegno del governatore D'Alfonso. Per mancanza di fondi rischiavano bene 57 dipendenti, a rischio anche il servizio di riabilitazione. Sono in aumento i pazienti marsicani, le spese anche, ma i fondi vengono ridotti. E poi per l'Acqua Santa Croce, abbiamo visto prima, aperte le buste della gara. Andiamo nel taglio basso, sul Mona, scuole, niente muspe nella calza della Befana. Celano, morto l'ex sindaco Giacomo Morgante. Sempre da sul Mona, l'anziano colto da meningite sta migliorando, l'abbiamo visto prima. Tagliacozzo, ponte chiuso, una mezza tragedia per il ponte ferroviario di Tagliacozzo. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti, nell'ex media Chiarini, alle Nolli, il degrado assedia il centro città. L'edificio alla villa è totalmente vandalizzato, un barco nel seminterrato forse è un rifugio. La storica scuola elementare nell'abbandono, portone chiuso, ma si accede da una finestra. E poi i ladri scatenati tornano alla piscina comunale, forzano le porte, distruggono i distributori di bevande e si portano via i soldi delle docce. Scusate, nel taglio basso, neve, priorità per le scuole e le grandi arterie. Ci si prepara alla nevicata che è stata annunciata da un po' tutte le previsioni meteo. Andiamo sulla pagina di Lancianova Stortona, Pupillo, ecco i progetti per il 2017, il sindaco tra passato e futuro. Lavoreremo su cinque temi, dalla variante alle opere pubbliche, dall'ambiente alla mobilità, politica in campo per difendere il Tribunale e il nuovo ospedale, al via la riqualificazione di Santa Rita e degli impianti sportivi, questi progetti dell'amministrazione per il nuovo anno. Poi c'è l'idea della Sangritana, riattivare il tram cittadino, sempre per quanto riguarda Lanciano. Agissi, maggioranza e opposizione, no al centro di accoglienza. E a Castiglione, provinciale, il pasticcio dei lavori fermi, situazione paradossale, nonostante il fondo di 2 milioni e c'è la rabbia del primo cittadino. Andiamo adesso sulla città, sul quotidiano della provincia di Teramo, per vedere anche qualche notizia dal Teramano. Apriamo con il tema dell'università, se l'Ateneo perde punti è anche colpa della città, così il rettore Luciano D'Amico, che analizza i dati del Sole 24 Ore e sottolinea i numeri negativi dell'università di Teramo. Teramo non è un ambiente attrattivo, ha detto il magnifico rettore. Noi andiamo a vedere la conferenza stampa nel servizio di Tania Bonici Castelli. Vediamo se la regia riesce a recuperare il servizio realizzato dalla redazione teramana, con cui si analizzavano i dati del Sole 24 Ore. Si piazza al 33esimo posto l'Università degli Studi di Teramo nella classifica del Sole 24 Ore su 61 Atenei statali italiani. L'arretramento di una sola posizione rispetto al 2015 nella classifica generale è però letto come un sostanziale assestamento. Tanti gli indicatori principali che invece crescono notevolmente, come la sostenibilità, l'efficacia, la competitività della ricerca e la qualità della produzione scientifica. Ciò che fa perdere posizioni all'Unite, la difficoltà negli stage e nell'occupazione, anche se quest'ultimo fattore è negativo, si spiega con il percorso dei laureati in giurisprudenza, che è necessariamente lungo e fa ritardare l'ingresso al mondo del lavoro. Ci gratifica moltissimo il miglioramento della internazionalizzazione con gli studenti Erasmus in crescita, in grande crescita. Ci gratifica moltissimo il miglioramento della didattica, dell'efficacia della didattica. Lavoreremo sugli altri. Il rettore D'Amico ha spiegato dettagli inediti sul presente e futuro dell'Università Terramana nel corso di una non conferenza stampa, ma di un brindisi d'auguri per il suo compleanno. Il primo riconoscimento che Unite ottiene è la conferma quasi invariata del finanziamento di 25 milioni e mezzo di euro e la certezza di crescere grazie ai progetti previsti dal masterplan, come il recupero dell'ex manicomio e il completamento del polo agro-veterinario con la creazione di nuovi laboratori. E il 2017 inizia con tanti progetti da portare avanti? Inizia con dei progetti su cui bisognerà lavorare moltissimo. Sarà l'anno in cui bisognerà procedere alla cantierizzazione dei due grandi progetti masterplan che riguardano direttamente l'Ateneo. Il completamento del polo agro-veterinario e l'apertura del cantiere del manicomio. Sono due progetti che ci consentiranno di completare la dotazione strutturale e di guardare con fiducia e anche con possibilità di maggiore impegno agli anni futuri. L'obiettivo è arrivare a fine 2017 con i cantieri aperti. Non perde il buon umore il Rettore D'Amico anche quando parla dello stop del Ministro Lorenzina alla sinergia scientifica con l'Istituto Zoprofilattico e il rifiuto dell'amministrazione comunale e la cabinovia come due grandi occasioni perse per l'Università e la città di Teramo. Così per il 2017 promette di infilare i guantoni e continuare a combattere e cercare nuove occasioni di sviluppo. Restiamo sempre a Teramo. Terrorismo islamista, allarme radicalizzazione anche a Castronio. Nei mesi scorsi tra le mura del carcere individuato è trasferito un detenuto tunisino in odore di jihadismo. La formazione, un nucleo speciale di polizia penitenziaria, sta facendo un corso specifico per riconoscere e combattere il fenomeno. Andiamo avanti, il commercio, salti mortali in vista dei saldi invernali. Oggi la fiera della Befana, domani si parte con gli sconti, ogni famiglia Teramana spenderà in media 330 euro. L'anno di crisi, la situazione generale non positiva, aggravata dai lavori del corso e dal terremoto, porta a nuove serrande abbassate. Corso San Giorgio, se la gioielleria DOC si sposta a pescare, due negozi di intimo potrebbero rimanere, nonostante la disdetta. Andiamo avanti, la Fenice rinasce col teatro sociale, domenica la polifunzionale e lo spettacolo per finanziare i centri antiviolenza. E ancora dalla provincia, la crisi fa scappare anche gli stranieri. In un anno in provincia di Teramo i residenti sono complessivamente appena 17 in più le città, nei comuni con più di 15 mila abitanti. Gli stranieri crescono a Silvi, Giulianova, Roseto e diminuiscono invece a Martinsicuro. Restiamo sempre alle notizie dalla provincia teramana, ma adesso ci spostiamo sulla pagina di Giulianova Mosciano. Armi e droga nascosti dentro casa, i carabinieri sequestrano 50 mila euro di marijuana destinata allo spaccio lungo la costa. A finire in manette dopo il blitz dei militari sono stati due albanesi ed un aquilano. E adesso passiamo alla pagina dello sport e andiamo ovviamente ad aprire l'Abruzzo Sport partendo dal quotidiano Il Centro. Andiamo a recuperare la pagina dell'Abruzzo Sport, il Pescara in primo piano con i movimenti di mercato. Caccia al bomber, Gilardino, Pescara un altro passo avanti. C'è il Via Libera dell'Empoli, si potrebbe andare via, così il club toscano. Le date, trasferimenti fino al 31 di gennaio, la campagna si è aperta. Ieri Coulibaly verrà tesserato tra due mesi, problemi per l'ingaggio del senegalese, sarà Biancazzurro appena maggiorenne. Il notiziario verrà Zuparic ancora fermi, domani test con il San Nicolò. Cambiamo pagina. Parla Stendardo, il neoacquisto per quanto riguarda la difesa, insieme a Bovo. Ecco l'avvocato, il gigante di Biancazzurri laureato in giurisprudenza. Finalmente sono qui e voglio rimanere in A. Oddo, mi piace, possiamo farcela. Questa è l'inizione di ottimismo di Stendardo che andiamo ad ascoltare. Mi verrebbe da dire scusate il ritardo, in effetti ci sono state diverse opportunità anche in passato, in particolar modo l'ultima a fine agosto che purtroppo non si è concretizzata. Però credo che oggi sia importante che io sia qui e che vesta questa maglia perché comunque credo sia un'occasione importante per me. Ringrazio la società, il Presidente, il Minister per l'accoglienza, per l'ospitalità. Sicuramente ci aspetta un campionato, una seconda parte di campionato molto impegnativa, ma io ho delle buone sensazioni. Credo che ci siano tutti i presupposti per ribaltare ciò che è successo nel girone di andata. Un girone, a mio modesto parere, sotto certi aspetti anche segnato dalla sfortuna, in particolar modo alcuni episodi che hanno condizionato diverse partite e diversi risultati. Però, come dicevo prima, è sicuramente un impegno importante. Io vengo qui non per sostituire dei giocatori perché credo che quelli che ci siano già sono bravi e hanno delle qualità. Io vengo qui per mettere al servizio della squadra la mia esperienza. Spero che questa possa essere utile. Da quello che ho avuto modo di vedere anche in questi giorni, credo ci siano anche delle qualità, non solo tecniche, ma anche morali. E questo credo sia importante in ogni contesto per raggiungere l'obiettivo finale. Ed ora passiamo invece alla Lega Pro, iniziamo dal Teramo, il diavolo sul mercato. L'idea Berardocco, Caidi resta, forte, torna al Pescara che lo cede al Carpi. In partenza Peterman si cerca un accordo per la rescissione con Jefferson. Complicate le piste che portano a Ferretti e Romero, ma si cerca un attaccante che possa integrarsi al meglio con Sansovini. Antonio Croce, punto fermo per Zauli. Palladini intanto lascia la panchina della San Benedettese. In pole per sostituirlo c'è Stefano Sanderra. Parma, il tecnico d'Aversa, vorrebbe Mammarella dalla Pro Vercelli. Andiamo a vedere anche qualche notizia sul Teramo dal quotidiano La Città. Allora andiamo a recuperare la pagina dello sport del quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo invece a parlare di basket. Il nuovo anno di Teramo parte contro Cefalù, la sfida contro i siciliani preceduta dal lunghissimo viaggio in Pullman. Sono recuperati anche Tomasello e Tessitore, questo per quanto riguarda la palla Spicchi. La squadra di Ciaboco potrà contare anche su due innesti come Jordan Losi e Emiliano Paparella. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e ritorniamo, vediamo se riusciamo ad aprire la pagina del quotidiano Il Centro che riguarda proprio lo sport per ritornare al calcio e in particolare alla serie D. Le conseguenze del Chieti fallito, girone F ridisegnato, cambia la classifica. Da domenica una squadra osserverà un turno di riposo. La Lega Nazionale di Lettanti inoltre provvederà allo svincolo d'ufficio di tutti i calciatori nero-verdi. Non ci sono i libri contabili e al momento non è possibile stabilire la situazione debitoria del club. Nel taglio alto da domani il clou del calcio a 5 abruzzese a Bucchianico. E poi invece il ciclismo nel taglio basso, Ciccone operato di nuovo al cuore. Il corridore teatino della Bardiani-CFS è in convalescenza da stabilire la data del ritorno alle corse. Il volley di A2 Biancazzurri al Bivo si eco in pavida due gare per sperare nel quinto posto. Domani sera Castellana Grotte, domenica in casa con la Sigma Aversa. Solo facendo bottino pieno potrà evitare di firine nel girone retrocessione. Andiamo ancora avanti con la lettura del pagina sport del centro. Basket di A2, la Proger argina la fortitudo ma deve inchinarsi nel finale. Partita finita 89 a 78. Prova dignitosa dei Biancorossi al cospetto dei Felsinei, almeno fino al quarto fallo di Davis. All'Orizzonte due gare casalinghe contro Ferrara e Trieste per allontanarsi dalla zona calda. Dopo partita, coach Galli e Realista, loro sono più forti. e poi Rosetto al lavoro per invertire la rotta e spezzare la serie negativa. Venedì il Verona al Palamaggetti. E poi abbiamo visto già la serie B e poi il derby di Teramo. Queste erano le ultime notizie per quanto riguarda anche lo sport. La nostra rassegna termina qui, mattino 6, torna domani alle ore 7. La nostra informazione invece con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.